Il parcheggio modulare continua a marcire a San Filippo, nei pressi del CEP, vittima di azioni vandaliche. In via La Farina non c'è traccia della struttura che avrebbe dovuto aumentare gli stalli per la sosta nel centro della città. L'idea dell'amministrazione comunale era quella di trasferire, già entro Natale dello scorso anno, nell'area decente alla chiesa di Sant'Andrea Vellino, il parcheggio che si trova nella zona sud, realizzato quando il Messina Calcio disputava il campionato di Serie A. Struttura nel tempo abbandonata. Meglio utilizzarla altrove dunque. Il progetto però non ha trovato ancora attuazione. Palazzo Zanca, sempre lo scorso anno, aveva annunciato di voler impiegare fondi Ecopass circa 300.000 euro. Le non facili operazioni di smontaggio e rimontaggio dovrebbero essere eseguite dalla Fast Park di Roma, la stessa ditta che ha installato i moduli a San Filippo. Nel frattempo la struttura necessita pure di interventi di manutenzione. È trascorso un anno ed ancora non è stato fatto nulla. Inoltre c'è un contenzioso tra comune e ACP proprio sull'area nella quale dovrebbe sorgere il parcheggio. L'Istituto Autonomo Case Popolari ha chiesto un risarcimento milionario a Palazzo Zanca. Un progetto degli anni Ottanta prevedeva su quel terreno la costruzione di un edificio e il ritrovamento di reperti archeologici bloccò tutto. L'area è di proprietà del comune per due terzi ed un terzo appartiene all'OIACP.